Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora oggi questo video è dedicato a uno spacchettamento di un ordine, quello che vedete qua, che ho ricevuto da Perline Film & Co. Quindi direi di iniziare e vedere il contenuto e aprire appunto tutti i pacchettini che contiene. Bene, allora apriamo subito, io ho iniziato a sbirciare ma non ho praticamente tirato fuori niente, perché? Perché ragazzi intanto quando lo aprite da un profumo troppo buono, un profumo che io adoro e veramente oltre a rifarvi gli occhi anche sentire questo profumo è proprio gradevole. E vediamo appunto cosa contiene. Allora sono dei kit che aveva messo in vendita Annalisa le scorse settimane e quindi potrebbe essere che in questo momento non sono disponibili. Però io voglio lo stesso mostrarvi perché Annalisa ha cambiato il modo di presentarci il materiale e vale veramente la pena. Intanto in questo cuoricino ci sono gli omaggi e sono sempre molto graditi in questo bellissimo cuoricino, qui è troppo bello. E lo metto un attimo da parte, passiamo subito a quello che ho comprato. Allora aspettate che metto via allontano un attimo il pacchetto, ho preso questa conserva di rivoli da 14 mm, cioè il packaging che cosa non è, poi tutto profumato veramente. E contiene appunto i rivoli da 14 mm, il kit dei rivoli da 14 mm che ho comprato, questo bellissimo colore, ci sono sempre poi tutte le etichette, non sto a leggerle, le potete comunque vedere voi. Cioè sono fantastiche, ecco sono le campane, questi sono tutti i colori che contiene, sono dei rivoli della Crystal Superior Quality, scusate faccio fatica ancora a parlare ma sono un po', sto guarendo da un'influenza, quindi tanta roba. E li ho presi perché a parte che io adoro i rivoli, cioè questo già non rende, questo è molto, è diverso da come lo vedete in video, un po' più sull'azzurrato metallizzato, è fantastico. Purtroppo come sempre io ho poco tempo, in realtà sto girando il video che è mattina, sono le 9 di mattina, ma non c'è, non c'è luce, quindi va bene così, ho dovuto mettere quelle artificiali. Quindi mi scuso, però non potevo non mostrarvi cosa contiene appunto questo bel pacchetto ricevuto. I rivoli sono sempre comodi, ne ho tantissimi, ma li adoro, sono malata io di rivoli e soprattutto adesso che arriva il Natale, con gli ordini di Natale, fa sempre comodo avere qualche rivolo in più, per cui ho comprato questa bellissima conserva che ragazzi, guardate il packaging, cioè dove le va a trovare, sono bellissime, nulla da dire. Dopodiché ho comprato questi sacchettini in rosa un po' più pastelloso, più tenue rispetto a quello che si vede dal mio telefono, mi scuso, ripeto. Purtroppo devo anche cambiare il telefono perché la qualità inizia a scarseggiare e niente, vedete infatti si chiama rosa pastello, infatti sono pastellose e ho preso 10 bustine perché quando vado a confezionare dei pacchettini e anche da spedire, sono sempre molto comodi o comunque mercatini. Poi ho comprato il kit Family, non so neanche pronunciarlo, ed era un kit che avevo fatto mettere da parte perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Ve lo mostro, il colore mi ispira tantissimo, cioè io proprio li lascerò adesso dentro in questa bustina, con questo packaging, e mi prenderò la bustina e mi metterò alla mia scrivania e mi devo far ispirare, creare qualcosa usando questi colori, cioè sono troppo belli. Intanto parliamo dei rivoli, cioè ragazze, parliamo dei rivoli, ma che cosa non sono? Vedete che hanno tutti questi riflessi sul verde, cioè sono fantastici, e questo è il colore, moltamente prende il nome, il kit dà il nome di questo rivoli di Superior Quality. Faccio fatica a parlare, non ce n'è, ed è bellissimo. La scatoletta Tittac con le Miyuki Opac Dark Cream, che adoro, e infatti incastonerò i rivoli, penso coloro, e usando questo. Poi vediamo cosa mi esce. Dopodiché ho queste perle, che adoro, le Puzzle Cream, cioè vanno su con tutto, ma soprattutto stanno veramente bene con queste, cioè con queste qua verde. Puzzle Lime, e poi troviamo anche questi perni. Cioè vedete, è proprio già un kit, io magari aggiungerò qualche perlina, adesso non so quale, che va a richiamare questi colori, ma tutto questo ci sarà dentro, in un mio progetto. Per cui, la... cioè è bellissimo, cioè è bellissimo. Poi passiamo a questo kit, è Kit Family Olivine, Olivine, non so come si pronuncia. Io in inglese, ragazze, sono sempre negata. Una bellissima bustina metallizzata, che qua vado ad aprirla. E anche qua, io non amo il verde, ragazze, non lo amo per niente, ma c'è tanta roba, soprattutto in questo periodo. E soprattutto ritrovo questi rivoli, che sono stata contentissima di ritrovarli, perché sono, insomma, sono gli stessi che ci sono dentro qua. Vediamo, sì, sono gli stessi che erano dentro in questo kit che vi ho mostrato. E c'hanno di quei riflessi, cioè mi piangeva anche il cuore usarli, però sono bellissimi. Dopodiché ho questi mezzi cristalli. Ok, vediamo se si mette... ok, così. Spero che rendono i colori. Anche in questo caso il tic tac è di questo colore qua, che è bellissimo, adoro. Dopodiché ci sono, e adoro, le zoli. Guardate il colore, è questo, c'è la versione destra e la versione sinistra. Guardate cosa non è questo colore. Le mie amate Vexolo, anche le Vexolo io le ho sempre amate. C'è bellissimo il pastel lime, sì, giusto, me lo ricordavo giusto. Ed infine queste bellissime monachelle, che ce ne sono due paia, in acciaio dorato, che mi ispirano, ragazze, mi ispirano. Non so, vediamo cosa riesco a creare, insomma, con questi. Anche questi kit io li prendo, ragazze. Uno perché, cioè, ve li consiglio, perché ve li consiglio. Adesso, magari questi non sono più disponibili, ma Annalisa tutte le settimane ci regala dei kit family. Perché? Perché comprando una bustina, no, abbiamo già intanto tutte le varie perline che ci stanno bene insieme. Quindi in tonalità di colore o in sfumature, che comunque stanno bene insieme. E sono proprio belle, perché magari vogliamo fare un progetto, noi abbiamo già tutto già abbinato, no? Oppure dobbiamo proprio aggiungere le nostre locaile o qualche perlina, no? Che magari abbiamo in casa. Oppure, per chi come me piace creare nuovi progetti, cioè, se mi siedo sulla scrivania e con il mio kit family, e aggiungendo veramente magari o nulla o poco di altre perline, mi faccio un nuovo progetto, senza diventare matta a capire o che tonalità faccio, piuttosto che, cioè, proprio ispirano veramente tanto. Quindi ve li consiglio. Altro kit che, ragazzi, cioè, io questo non c'è, sono, è bellissimo. Il kit mustard honey. Cioè, già, quel fatto che ci sono le apine, cioè. In questa bellissima confezione sfumata dall'azzurro a rosa, a lilla più che rosa, e troviamo un altro kit, cioè, che io con questi ci faccio i circe, ve lo dico già, ci faccio i circe. Le ho presi apposta. Allora, intanto troviamo queste basi spilla che non ho mai realizzato, e quindi guarderò su YouTube qualche cosa da, per poterli utilizzare. E nel YouTube sappiamo che è pieno, e quindi parliamone, parliamone. Non rende, non rende assolutamente, ma parliamone, ragazze. Cosa non è questi rivoli qui? Questo è il nome. Light, that's, shimmer, non lo so, ripeto. Ma dal vivo è una cosa bellissima. Cioè, questi sono, è per fare i circe. Non ce n'è. Ci metterò l'oro, e metterò nell'incastonatura, la farò doppia. Quindi oro, e questa bellissima confezione di Miyuki 11.0, in questo colore qua. Opac Mustard. È fantastico, ragazze. Già, io sto male, sono al pensiero. Ragazze, guardate, per i circe. Cosa dire? Di queste vexolo, di questo colore qua. Cioè, ripeto, dal vivo sono ancora più belle. Cioè, questo è un paio di circe. Non ce n'è. Non ce n'è, ragazze, non ce n'è. Cosa vogliamo parlare? Di queste, di queste zoli duo? Cioè, è fantastico. Fantastico. Devo solo capire poi il perno, quelle cose lì, ma... Ecco, poi mi rimarranno che i miei circi non servono. Sicuramente sono le buive duo. Però, però, ragazze, cioè, un progettino nuovo utilizzando queste? Ci sta dentro, eh. Quindi, bellissimi. E poi, anche, ci sono questi mezzi cristalli che hanno una luce pazzesca. E anche questi io mi voglio inventare qualcosa. Voglio usarle per... Cioè, voglio usarle. Quindi, ragazze, di questo aspettatevi prossimamente. Ho degli ordini da fare, ma prossimamente, ehm, un bel paio di circe. Io li ho proprio presi per fare i circe, questi. Cioè, proprio... L'anno scorso ne ho fatti tanti di circe. E questo colore qua, ehm, secondo me sono fantastici. Quindi, top. Spero che Annalisa rifornisca anche queste perline da sito, in modo che anche voi le possiate comprare e replicare i miei circe. Voi, magari, già ci sono. Ah, non lo so. Io sono focalizzata a comprarmi già tutti i kit, ragazzi. Ogni venerdì, la maggior parte del venerdì, fanno le dirette. Lise e Annalisa, non perdetevele. C'è sulla pagina Facebook Perline Film & Co. E ci propongono questi kit family, che sono uno più bello dell'altro, veramente. Poi, vi faccio vedere anche un altro kit family che avevo fatto mettere da parte, che è il kit family Sirena Deluxe. Intanto, la scatolina, cioè, parliamone. C'è una cosa che io adoro, il fatto che possiamo poi utilizzare di nuovo. Eccomi qua, scusate, ma mi scappavo uno starnuto. È così, un po' influenzata. E niente, quindi, il kit family. Stavo dicendovi Sirena. Adesso devo capire. Ah, non si apre così. Cioè, no, bellissimo. Aspettate che mi metto anche a fuoco, così. Track. No. E anche questo, ragazzi, vi dirò. L'ho pensato anche questo per i circe. perché sappiamo che arriva il Natale e di questo colore e verdi vanno come non so cosa. Nel mercatini poi mi chiedono proprio creazioni verdi e quindi ci sta. Quindi ho pensato di prenderli, appunto, perché ci sono loro, le Zoli Duo, anche. Che è un colore fantastico. Un bellissimo, una bella tonalità di verde. E vediamo, io ho comunque delle Vexolo anche di questa tonalità, Emerald. Per cui direi che queste le posso usare poi sicuramente per fare quello che mi sono messa in testa. Ma poi contiene sempre della stessa tonalità, ma cambia leggermente la colorazione. Non è più l'Emerald. E sono tutte le altre perline. Aspettate che metto a fuoco. Ok. Ci sono le Rinite Delight. È bellissimo, ragazzi. Cioè, questo è un colore fantastico. Poi passiamo sempre alle perline. Le Vexolo. Metallic Marine. Questo è un colore bellissimo, ma fantastico. E anche di questa tonalità voglio creare un paio di circe. Belli. Belli, belli, belli. Poi, sempre le Vexolo, dello stesso colore. Marine Metallic. Poi, che cosa non sono questi qua? Sono piccolini, da 3 mm. No, da 2 mm. Dello stesso colore. Cioè, queste qua sono delle piccole... ...chicche. Belli. Dopodiché c'è il nostro Tic Tac, che è lo stesso colore che magari utilizzerò per incastonare i rivoli, che poi vedrò per fare i circe. E poi, infine, abbiamo questo bellissimo anello in acciaio dorato. E questo cabosciano vale, che sicuramente propongo ai mercatini, perché i mercatini, questa tipologia di anelli va un sacco. E già non lo so se proporlo, tenerlo per me. Vediamo. Però, bello, 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 bello. Quindi, questo è tutto quello che conteneva, questo kit sirena, che mi ero fatta mettere via da Annalisa. Ok, vedete? E poi la scatoletta, ce ne parliamo, ce ci serve. Andiamo in giro, mettiamo dentro del materiale, lo portiamo. Vedete quante perline ci stanno dentro. Bello, 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 bello. Allora, infine, cosa ho preso? Ho preso delle bustine sciolte, di materiale che mi serviva per creare nuove cose. Cioè, nuove cose, dei progetti, degli ordini che ho in sospeso. E quindi, le Drop Duo, che mi stavano proprio finendo. E io di queste le uso tanto. Adesso non utilizzo tantissimo le Drop Duo. Ma, se uso le Drop Duo, la maggior parte delle volte tendo a usare colori neutri, come questo. Poi, dello stesso colore, perché ormai sono in fissa. Il crema comunque va sempre, ragazze, queste perle. Belle. E questo qua, creerò qualche nuovo progettino. Cioè, tipo il nuovo progetto, gli orecchini Metis. Che hanno vinto il match creativo. Cioè, sicuramente li, li, cioè, li utilizzerò. Insomma, vediamo un attimo. Poi, sempre Drop Duo, le Jet Bronze. Perché adesso sono in fissa col colore Jet Bronze. Non si vedono nulla, con la luce artificiale. Non sono così scure, sono proprio, è un bellissimo, una bellissima tonalità di bronzo. Sì, non sono così scure, ragazzi. Vediamo se lo metto così. No, sempre scusa. Dopodiché, ha preso sempre anche queste altre Drop Duo. Ecco, in questa tonalità. Diciamo, perché ho preso le Drop Duo? Ripeto, non perché più che altro le utilizzo a go-go. Perché io sono di Gem Duo. Le Vexolo amo. Ma nel nuovo progettino, appunto, che ha vinto, gli orecchini Metis, che ha vinto il match creativo, si usano le Drop. Quindi mi sono fatta scorta di qualche colore per proporre delle varianti, no? Perché quegli orecchini lì stanno bene, cioè quel modulino lì sta bene come orecchini, ma anche come ciondolino. Per cui al mercatino voglio proporlo come ciondolo anche. E quindi farò questo e poi vi dimostrerò. Magari prossimamente faccio anche un video creazioni. Infine, ragazze, mi è arrivata lei, la forbice. Analisa le ha terminate, ma da quello che so, ne sono in arrivo altre. Cioè, questa che cos'è? È favolosa. Vediamo se mia figlia mi ha concesso una forbice nella mia scrivania. Intanto questa è una delle semplici forbicine. E questa comunque, per farvi vedere che è più grande. Ed è, cioè, wow, è fantastica. Taglia benissimo, sicuramente. E adesso la faccio sparire dalle grinfie di Sofia. Niente, ragazze, questo è il mio ordine da Perline Fimo & Co. Ripeto, magari qualche kit non c'è più. Qualche Perlina Analisa la mette nel... Sicuramente la mette nel sito. Se avete visto qualcosa che vi piace, magari provate a chiedere. Che magari le deve solo inserire, oppure sono in arrivo. Ma quello che vi consiglio è assolutamente seguire le dirette il venerdì. E poi il sabato o la domenica, Analisa mette fuori sul sito tutti i kit che vengono presentati da lei e da Lisa il fine settimana. Cioè, il venerdì generalmente è quello. Poi c'è qualche settimana che magari comunque avvisa sempre. Quindi, ve li consiglio. C'è un kit family e tanta roba per ispirazione, per avere già delle perline già abbinate insieme. Non solo, ripeto, per chi crea cose nuove, ma anche per chi riproduce o fa ordini o vuol creare. Dipendentemente che siano sui progetti o progetti di altri. Sono tanta roba. Tanta roba perché sono abbinati benissimo. Quindi non potevo non mostrarvi questa meraviglia. Detto questo, io vi saluto perché vi ho già fatto compagnia per tantissimi minuti. E niente, spero che vi sia comunque piaciuto questo video, anche se non è un video tutorial. Però ragazzi, a me non cambiamo un attimo. Cioè, io condivido volentieri tutti i miei progetti con voi. Però ogni tanto, dai, ci sta un video review piuttosto che un video creazioni che farò a breve. E niente, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao a tutti!